La Sala Borsa di Bologna, inaugurata il 17 luglio 1926, è un capolavoro dell'ingegnere Francesco Tassoni. La costruzione dei due ballatoi superiori attorno alla piazza coperta iniziò nel 1924, trasformando l'edificio in un luogo di cultura e apprendimento. Le due sale sotterranee, decorate con stucchi e pitture in stile Liberty e con soffitto a cassettoni, sono tradizionalmente attribuite all'architetto bolognese Edoardo Collamarini. Questi dettagli artistici e architettonici rendono la Sala Borsa un luogo affascinante e ricco di storia. Oltre alla sua funzione di biblioteca, la Sala Borsa ospita anche eventi artistici e culturali. Da non dimenticare infine gli scavi archeologici visitabili che ci portano fino all'antica città romana.